Ciao! Avete mai sentito il detto quando la vita ti dà dei limoni e tu fai una limonata? I miei genitori lo dicevano sempre, ma credo di non averlo mai davvero capito quando ero piccola. Pensavo qualcosa tipo, sì, facciamo la limonata, buona! Giusto? Ma ora lo capisco bene, il suo significato è che quando hai qualcosa che non ti piace, puoi sempre trasformarlo in qualcosa che ti piace davvero. Come stamattina. Stavo dipingendo un quadretto con una rosa e mi è caduto del colore sul foglio, cosa che ha rovinato il disegno, ma a guardare bene mi ricordava un cuoricino. Così ho finito di dipingere il cuore e l'ho regalato a mia mamma. Un cartoncino ti voglio bene mamma a sorpresa! Con i limoni, la limonata. Vedete, i limoni sono aspri. Ma possiamo trasformarli e usarli per deliziose bevande e ricette. Quindi, questo sarà il mio vlog di oggi. Vi insegnerò come realizzare la ricetta della mia famosa torta al limone. Sì! Ed ecco l'elenco degli ingredienti. Una tazza di zucchero bianco, mezza tazza di burro a temperatura ambiente, due uova, sempre a temperatura ambiente, due cucchiaini di vaniglia, una tazza e mezza di farina autolievitante, tre quarti di tazza di latte, un cucchiaino di scorza di limone, e vi mostrerò come prepararla, e un cucchiaino di succo di limone, che non è tanto. Ok, intanto vi spiego come preparare la scorza di limone. Oh, questo è davvero importante. Assicuratevi sempre di avere tutti gli ingredienti pronti quando preparate una ricetta, così non vi confonderete durante l'esecuzione. I francesi lo chiamano mise en place. Mise en place? Mise en place. Significa ogni cosa al suo posto. Ok. Intanto vi insegno come grattugiare il limone, visto che è un ingrediente chiave della mia famosa torta al limone. Per la scorza di limone useremo la buccia. Si parte. Io uso una grattugia per il formaggio. È facile. Quando usate la grattugia chiedete a un adulto di aiutarvi. Lavate il limone, prendete la grattugia e grattugiate la buccia, così. E voilà! Per ottenere un cucchiaio di scorza sarà sufficiente un limone. Ora che abbiamo tutti gli ingredienti, possiamo iniziare. La prima cosa è mescolare zucchero e burro a temperatura ambiente in una ciotola larga e amalgamare con la frusta finché... Oh, dimenticavo! La prima cosa è sempre preriscaldare il forno a 180 gradi. Così il forno si riscalda mentre preparate l'impasto. Quando usate il forno chiedete a un adulto di aiutarvi. Ok, a dove eravamo? Ah, sì! Amalgamate zucchero e burro rendendoli leggeri e soffici. Si chiama mantecatura. Aggiungete le uova e la vaniglia. La cosa più importante che ho imparato cucinando è assicurarsi sempre che le uova siano a temperatura ambiente. Si uniranno meglio all'impasto e monteranno più facilmente, così otterrete una torta soffice e leggera. Poi setacciate la farina autolievitante in un'altra ciotola larga come questa. Aggiungete l'impasto mantecato e versate il latte la scorza di limone e un cucchiaio di succo di limone. Usate il succo del limone che avete grattugiato. L'impasto dovrà essere omogeneo. Versate l'impasto in una teglia imburrata da 22 centimetri e infornate per 35 minuti. Dal limone alla torta al limone. Visto? Io porto questa lezione nel cuore. Quando la vita ti dà dei limoni, tu fai una limonata. Alcune delle cose migliori della vita arrivano per errore. Per esempio, le patatine fritte. Ma di questa storia parleremo un'altra volta. Pace!